Di Victor Hugo, I Miserabili. Voce di Lorenzo Pieri. Parte quarta. L'idiglio di Rue Plumet e l'epopea di Rue Saint-Denis. Libro secondo. Eponine. Capitoli terzo e quarto. Capitolo terzo. Apparizione a Papà Mabeuf. Marius non andava più a trovare nessuno. Gli capitava però di incontrare di tanto in tanto Papà Mabeuf. Marius scendeva lentamente quei lugubri gradini che si potrebbero chiamare le scale delle cantine e che portano in luoghi senza luce da dove si sentono camminare di sopra i felici. Anche Mabeuf scendeva. La flora di Coterez non si vendeva assolutamente più. Gli esperimenti sull'indaco nel giardinetto di Osterlitz, che era mal esposto, non erano riusciti affatto. Il signor Mabeuf ci poteva a malapena coltivare alcune piante esotiche che richiedono ombra e umidità. Eppure non si scoraggiava. Aveva ottenuto un angolino di terra al Jardin des Plantes, ben esposto, per farvi, a proprie spese, i suoi esperimenti sull'indaco, e per questo aveva impegnato al Monte di Pietà le lastre di rame della sua flora. Aveva ridotto la colazione a due uova, lasciandone una per la sua domestica, alla quale da quindici mesi non pagava il salario. E spesso la colazione era il suo unico pasto. Non aveva più la sua bella risata infantile, era diventato scostante, non riceveva visite. Marius faceva bene a non pensare più di andare a trovarlo. A volte, quando Mabeuf andava al Jardin des Plantes, si incontravano nel boulevard dell'ospedale. Non si parlavano neanche, limitandosi a fare un triste cenno col capo. Cosa straziante che ci sia un momento in cui la miseria allontana. Si era due amici, non si è più che passanti. Il libraio Royol era morto. Le uniche conoscenze di Mabeuf erano ormai i suoi libri. Il suo giardino e il suo indaco. Erano le tre forme che per lui avevano preso la felicità, il piacere e la speranza. Questo gli bastava per vivere. Si diceva, quando avrò fatto le mie palle azzurre, sarò ricco. E ritirerò le lastre di rame al monte di pietà. Con qualche chiacchiera rimetterò in voga la mia flora. Con la pubblicità, con gli annunci sui giornali. E comprerò, so ben io dove, una copia dell'arte di navigare di Pietro di Medina, del 1559. Nell'attesa lavorava tutta la giornata al suo quadrato di indaco. E di sera tornava a casa, per innaffiare il giardino e leggere i suoi libri. Mabeuf aveva a quei tempi più o meno 80 anni. Una sera ebbe un'apparizione singolare. Era rincasato che era ancora giorno. Mamma Plutarco, sempre ammalata, questa volta era a letto. Egli aveva cenato con un osso, al quale era rimasta attaccata un po' di carne e con un pezzo di pane che aveva trovato sul tavolo di cucina. Poi si era seduto su un paracarro rovesciato, che gli serviva da sedile in giardino. Vicino a quel sedile si ergeva, come nei vecchi giardini orti, una specie di grande cassone fatto di travi e di tavole molto smangiate, conigliera sotto e deposito di frutta sopra. Nella conigliera non c'erano conigli, sopra solo qualche mela, quello che restava delle provviste invernali. Mabeuf si era messo a sfogliare e a leggere con l'aiuto degli occhiali due libri che l'appassionavano e quel che è più grave per la sua età lo preoccupavano. La sua naturale timidezza lo rendeva propenso ad accettare le superstizioni. Il primo dei due libri era il famoso trattato del presidente dell'Ancre dell'incostanza dei demoni. L'altro era l'inquarto di Muthors della Roubadière sui diavoli di Vauvert e i folletti della Bievre. Quest'ultimo libro lo interessava, tanto più che il suo giardino era stato un tempo frequentato dai folletti. Il crepuscolo cominciava ad imbiancare ciò che è in alto e ad offuscare ciò che è in basso. Sempre leggendo, Papà Mabeuf, al di sopra del libro che teneva in mano, continuava ad osservare le sue piante e, tra le altre, un magnifico rododendro che era una delle sue consolazioni. Erano appena trascorsi quattro giorni di calura, di vento e di sole, senza una goccia di pioggia. Gli steli si curvavano, i boccioli pendevano, le foglie cadevano. Bisognava innaffiare, il rododendro era il più triste di tutti. Papà Mabeuf era uno di quelli che pensano che le piante abbiano un'anima. Il vecchio aveva lavorato tutto il giorno al suo quadratino d'indaco, era spossato dalla fatica. Eppure si alzò, depose i libri sul sedile di pietra e andò tutto curvo e a passo malfermo verso il pozzo, ma quando ebbe afferrato la catena non riuscì neanche a tirare abbastanza da sganciarla. Allora si girò e alzò lo sguardo verso il cielo che s'andava riempiendo di stelle. La serata era una di quelle che opprimono i dolori degli uomini sotto non so quale lugubre ed eterna gioia. La notte prometteva di essere secca, così come secca era stata la giornata. Stelle dappertutto, pensava il vecchio, neanche una nuvoletta, neanche una lacrima d'acqua. E la testa, che per un momento gli s'era sollevata, gli ricadde sul petto. La rialzò e guardò ancora una volta verso il cielo, mormorando «Una lacrima di rugiada, un po' di pietà». Tentò ancora una volta di sganciare la catena del pozzo, ma senza riuscirci. Proprio in quel momento sentì una voce che diceva «Papà Mabeffe, volete che vi annaffi il giardino?» e nello stesso tempo sentì un rumore di bestia selvatica che passa attraverso la siepe e infatti vide uscire dai cespugli una specie di ragazza alta e magra che gli si parò d'innanzi guardandolo con sfrontatezza. Aveva meno dell'essere umano che di una forma appena sbocciata dal crepuscolo. Prima che Papà Mabeffe, che si sgomentava con facilità e che aveva, come abbiamo appena detto, la paura facile, avesse potuto pronunciare una sillaba, quell'essere i cui movimenti avevano nell'oscurità una sorta di strana rapidità, aveva sganciato la catena, tuffato e ritirato su il secchio e riempito l'innaffiatoio e il bravuomo vedeva quell'apparizione che era a piedi nudi e con una gonna a brandegli correre lungo le aiuole distribuendo la vita intorno a sé. Il rumore dell'acqua che pioveva sulle foglie riempiva l'anima di Papà Mabeffe di meraviglia. Gli sembrava che ora il rododendro fosse felice. Vuotato il primo secchio, la fanciulla ne tirò su un secondo e poi un terzo, innaffiò tutto il giardino. A vederla camminare in quel modo per i viali dove la sua figurina si stagliava tutta nera, agitando su quelle lunghe braccia angolose il suo scialle tutto strappato, aveva qualcosa del pipistrello. Quando ebbe finito, Papà Mabeffe le si avvicinò con le lacrime agli occhi. e le posò una mano sulla fronte. «Dio vi benedirà», disse. «Voi siete un angelo, perché vi prendete cura dei fiori». «No», rispose lei, «sono il diavolo, ma per me è la stessa cosa». Il vecchio esclamò senza aspettare e senza capire la sua risposta. «Che peccato che io sia tanto sventurato e così povero da non poter fare nulla per voi». «Sì che potete fare qualcosa». «Che cosa?» «Dirmi dove abita il signor Marius». Il vecchio non capì. «Quale è il signor Marius?» e levò lo sguardo vitreo come se cercasse qualcosa di svanito. «Quel giovanotto che una volta veniva qui». Intanto, Mabeuf aveva scavato nella memoria. «Ah, sì», esclamò. «So chi intendete dire. Aspettate, aspettate. Il signor Marius, il barone Marius de Pontmercy, per bacco, abita... o piuttosto non abita più... già, non lo so». Mentre parlava si era chinato per accomodare un ramo del Rododendro e continuò. «Ecco, mi ricordo ora. Passa molto spesso sul boulevard diretto dalla parte della glacière Rue Krulbarbe, il campo della Lodola. Passateci, non è difficile incontrarlo». Quando il signor Mabeuf si tirò su, non c'era più nessuno. La ragazza era sparita. Ebbe decisamente un po' di paura. «Veramente?» pensò. «Se il mio giardino non fosse tutto innaffiato, penserei ad uno spirito». Un'ora dopo, una volta a letto, ci ripensò e addormentandosi in quel momento in cui il pensiero, simile a quell'uccello favoloso che diventa pesce per attraversare il mare, prende un po' la forma del sogno per attraversare il sonno, si diceva confusamente. «Davvero? Tutto ciò somiglia molto a quello che de la Hubodière racconta dei folletti. Era forse un folletto?» Capitolo IV Apparizione a Marius Qualche giorno dopo la visita di uno spirito a Papà Mabeuf, un mattino era lunedì, il giorno in cui Marius prendeva prestito da Cuffeirac alla moneta da cento soldi per Tenardier, Marius aveva messo quella moneta in tasca e prima di portarla alla cancelleria era andato a passeggiare un po', sperando che al ritorno ciò gli avrebbe permesso di lavorare. Del resto era sempre così. Appena alzato si sedeva di fronte ad un libro e ad un foglio di carta per stendere qualche traduzione. in quel periodo aveva l'incarico di tradurre in francese una celebre disputa tra tedeschi, la controversia tra Gain e Savigny. Prendeva Savigny, prendeva Gain, leggeva quattro righe, provava a scriverne una, non ci riusciva. Vedeva una stella tra il foglio e se stesso e alzandosi dalla sedia diceva «Esco, mi metterà in vena di lavorare» e se ne andava al campo della lodola. Là vedeva più che mai la stella, men che meno Savigny e Gain. Tornava a casa, provava a riprendere il lavoro e non ci riusciva. Non c'era modo di riallacciare uno solo dei fili spezzati nel suo cervello. Allora decideva «Domani non uscirò perché ciò mi impedisce di lavorare». Ciò nonostante usciva tutti i giorni. abitava al campo della lodola più che a casa di Courfeyrac. Il suo vero indirizzo era Boulevard de la Santé, il settimo albero dopo Rue Croulbarbe. Quel mattino aveva lasciato il settimo albero e si era seduto sul parapetto del cancello Goblon. Un sole brillante filtrava attraverso le foglie appena nate e rilucenti. Pensava a lei. Il suo fantasticare diventava rimprovero e ricadeva su di lui. Pensava dolorosamente alla pigrizia, paralisi dell'anima che lo invadeva e a quel buio che si faceva di momento in momento più profondo di fronte a lui tanto che egli non vedeva già più il sole. Intanto attraverso quel penoso sprigionarsi di idee indistinte che non erano neppure un monologo tanto l'azione si indeboliva in lui che egli non aveva più nemmeno la forza di volersi disperare. Attraverso questa malinconica concentrazione gli giungevano le sensazioni esterne. Sentiva dietro di sé sotto di sé sulle due sponde del fiumiciattolo le lavandaie dei Goblin battere la biancheria e sulla sua testa gli uccellini che cinguettavano e cantavano tra i rami degli olmi. Da una parte il rumore della libertà della felice non curanza del piacere alato dall'altra quello del lavoro e cosa che lo faceva pensare profondamente e quasi riflettere erano due rumori lieti. A un tratto nel pieno della sua estasi angosciata sentì una voce familiare che diceva to eccolo alzò lo sguardo e riconobbe la sfortunata fanciulla che era venuta a casa sua una mattina la maggiore delle figlie Thénardier e Ponin ora sapeva come si chiamava cosa strana sembrava più povera e più bella due passi che non sembrava le fosse possibile fare aveva fatto un duplice progresso verso la luce e verso la nera miseria era a piedi nudi e vestiva di stracci come il giorno in cui era entrata risolutamente nella sua camera solo che i suoi cenci avevano due mesi in più i buchi erano più larghi e gli stracci più luridi era quella stessa voce roca quella stessa fronte pallida e corrugata dalla magrezza quello stesso sguardo sfrontato smarrito e vacillante aveva più dell'altra volta nella fisionomia quel non so che di deplorevole sgomento che la trascorsa prigionia aggiunge alla miseria aveva nei capelli fili di paglia e di fieno non come ofelia per essere diventata pazza al contagio della follia d'amleto ma perché aveva dormito in qualche fienile nonostante tutto era bella quale astro sei o gioventù intanto si era fermata davanti a marius con un po' di gioia sul viso livido e una specie di sorriso rimase per un po' come se non potesse parlare vi ritrovo dunque disse finalmente papà mabef aveva ragione era proprio su questo viale come vi ho cercato se sapeste sono stata in prigione lo sapevate quindici giorni poi mi hanno lasciato andare visto che non c'era niente contro di me e che del resto non avevo l'età della ragione altrimenti mi facevo due mesi oh quanto vi ho cercato sono già sei settimane ma allora non abitate più laggiù no disse marius oh capisco per quella faccenda vi hanno scocciato quei pasticci e avete traslocato ma guarda e portate un cappello così vecchio un bel giovane come voi dovrebbe avere bei vestiti sapete signor marius papà mabef vi chiama barone marius non so che cosa ma voi non siete barone vero i baroni sono vecchi vanno a luxembourg davanti al castello dove c'è più sole leggono la quotidiana per un soldo una volta per una lettera sono andata da un barone così aveva più di cento anni ma ditemi dove abitate adesso marius non rispose ah lei continuò avete un buco nella camicia bisognerà che ve lo rammendi e con un'espressione sempre più cupa aggiunse non sembrate contento di vedermi marius taceva anch'ella rimase un momento in silenzio poi esclamò se io volessi vi costringerei ad avere l'aria contenta come chiese marius che volete dire oh mi davate del tu e la riprese allora cosa vuoi dire ella si morse le labbra sembrava che esitasse come in preda ad una sorta di lotta interiore alla fine si decise a prendere partito tanto peggio fa lo stesso avete l'aria triste e io voglio che siate contento promettetemi solamente che poi riderete voglio vedervi ridere e sentirvi dire ah bene benissimo povero signor marius sapete mi avete promesso che mi avreste dato tutto quello che avessi voluto sì ma parla una buona volta ella guardò marius nel bianco degli occhi e gli disse ho l'indirizzo marius impallidì tutto il sangue gli rifluì al cuore che indirizzo l'indirizzo che mi avevate chiesto e soggiunse come facendo uno sforzo l'indirizzo sapete bene sì farfugliò marius della signorina detta questa parola sospirò profondamente marius saltò giù dal parapetto dove stava seduto e le prese perdutamente una mano oh allora accompagnami dimmi chiedimi tutto quello che vuoi dov'è venite con me e la rispose non so bene la via e il numero è da tutt'altra parte ma conosco bene la casa vi ci accompagnerò ritirò la mano e riprese con un tono che avrebbe impensierito un più attento osservatore ma che non toccò minimamente marius ebbro e rapito come siete contento una nube passò sulla fronte di marius afferrò eponin per il braccio giurami una cosa giurare ella disse che cosa vuol dire ma guarda volete che giuri e si mise a ridere tuo padre promettimi eponin giurami che non darai questo indirizzo a tuo padre ella si girò verso di lui con un'aria stupefatta eponin come fate a sapere che mi chiamo eponin promettimi ciò che ti chiedo ma lei sembrava non sentirlo più siete molto gentile mi avete chiamato eponin marius la prese per le braccia ma rispondimi dunque in nome del cielo fai attenzione a ciò che ti dico giurami che non dirai l'indirizzo che sai a tuo padre mio padre ella disse state pur tranquillo mio padre è chiuso in cella del resto quando mai mi sono occupata di mio padre ma tu non mi prometti esclamò marius ma lasciatemi dunque ella disse scoppiando a ridere come mi scuotete sì sì ve lo prometto ve lo giuro che me ne importa non dirò l'indirizzo a mio padre ecco va bene era questo e a nessun altro a nessun altro adesso riprese marius conducimi la subito subito venite oh come contento ella disse dopo qualche passo si fermò mi seguite troppo da vicino signor marius lasciatemi andare avanti e seguitemi così senza dare nell'occhio non sta bene che un signore come voi si faccia vedere con una donna come me nessuna lingua saprebbe dire tutto quello che era contenuto in quella parola donna pronunciata così da quella bambina fece una decina di passi e si fermò di nuovo marius la raggiunse ella gli rivolse la parola di lato senza voltarsi verso di lui a proposito sapete che mi avete promesso qualcosa marius si flugò in tasca non possedeva altro che quei cinque franchi destinati a tenardie li prese e li mise in mano a Eponin ella aprì le dita lasciò cadere in terra la moneta e guardandolo con aria cupa disse non voglio i vostri soldi